...dai Karnstein, dovunque si trovino. E' di Laura, che ho paura. Credi che si tratti di lei? Laura li vede morire in sogno. Ha una specie di chiaroveggenza. E' per questo che ti preoccupi. Klaus troverà il volto di Shina e vedrai che non somiglia neanche un po' a quello di tua figlia e neanche al tuo. Dimentica tutto. Ho bisogno di te per dimenticare. No, non è vero. Tu non mi ami. Mi desideri soltanto. Non è solo per questo. Perché non mi sposi? Potresti essere mia figlia. E allora adottami. Ci tieni a far parte della famiglia.